No ragazzi, non ci posso credere, non ci posso veramente credere. E' da qualche giorno che mi ritrovo ogni 2-3 ore a prendere in mano questa scatola. Sembra ormai uno schizzato perché mi riprendo in mano questa scatola del Cubot X20 Pro e me la guardo. E guardo le caratteristiche tecniche. E dico, accidenti, sulla carta tanta roba. Tripla camera posteriore, 12 più 20 più 8 megapixel, persino la grande angolare. 6 giga di RAM, 128 espandibili, camera frontale da 13 megapixel, Android 9 Pie, batteria da 4000 mAh, Type-C, Mediatek P60, display IPS da 6.3 pollici. Quando io vedo delle caratteristiche del genere, come minimo mi chiedo, se non è almeno un medio gamma tendente al top, poco ci manca. O no? Avrei voluto e avrei dovuto anzi intitolare questa recensione, ci avrei voluto credere. Anzi, ci credevo davvero. Ma stavolta Cubot me l'hai proprio messa in quel posto. Mi hai illuso e poi mi hai disilluso. Credevo tanto che invece fosse la volta buona. Purtroppo mi sbagliavo. Subito dopo la sigla vi dico il perché. L'avete già visto nell'unboxing. Sulla carta, come dire, prometteva tutto o quasi molto bene. Tripla fotocamera, clone spudorato del nuovo iPhone 11 Pro. Anche per la disposizione e la posizione del modulo fotografico. Anche se nell'iPhone 11 Pro sono messe in modo diverso, ma diciamo che lo ricorda abbastanza. Vero Cubot? Mattone da 200 grammi. IPS non male, devo dire. Bello schermo che però trattiene un'infinità non solo di ditate ma anche di aloni. E si fa veramente tanta fatica per pulirlo perché è oleofobicità zero. Una volta pulito è anche bello da vedere ma appena lo utilizzate, anche se avete le mani pulite, il display trattiene tutto quello che si può trattenere. Il display come potete vedere è bello, è un buon pannello IPS e si lascia guardare molto bene. È un full HD, ha anche una resa dei colori molto molto buona, naturali, non sparati, ben bilanciati. Devo dire che il display è forse uno dei punti di forza di questo device. Ma non basta, non basta Cubot. Tu vuoi farmi credere che hai fatto uscire un prodotto con design integrale in vetro e frame in alluminio. Bello tosto, mattone al punto giusto perché pesa 200 grammi, con delle funzionalità premium che però non hai implementato bene. Qua io ti faccio una critica pesante. Tu non mi puoi mettere tre fotocamere che fanno una più schifo dell'altra, avete capito bene. Non se ne salva una. Mettine una sola, mettine due ma mettile buone. Ben ottimizzate, che fanno belle foto, che sono ben integrate nel sistema. Cosa che qui non è successa. E mi dispiace dirlo Cubot, dovevi uscire subito con una patch migliorativa per quanto riguarda il comparto fotografico. Cosa che non hai fatto perché io tutti i giorni dal momento in cui l'ho aperto dalla scatola, ho provato almeno due o tre volte al giorno, come un povero bimbo minchia, a vedere se trovavo un aggiornamento. Ma non è mai arrivato. E questo mi ha deluso molto. Perché tu fai uscire un prodotto che dovrebbe prendermi una fetta di mercato nella fascia media, anzi nella fascia bassa, perché costa 136, adesso 146, è aumentato di 10 euro. Questo prodotto che vuole scalzare dal trono oggetti come Mi A3, stiamo parlando di Mi A3, come Redmi Note 7 e i nuovi Redmi che stanno per uscire, cioè tu vieni cancellato via senza lasciare traccia. Devo dire, sono rimasto deluso dalle foto, che dopo vi farò vedere, sono rimasto deluso dalla reattività e dalla gommosità del sistema. I 6 giga di RAM non si sentono. È tutto molto elastico, gommoso, a scoppio ritardato. Non c'è quello sprint che ci si aspetterebbe da un 6 giga di RAM e da un Mediatek che comunque sulla carta dovrebbe funzionare bene. Però non è ottimizzato bene col sistema. Io penso che non ne valga la pena. Non ne valga la pena perché non puoi scalzare dal mercato, come detto, dei giganti come Xiaomi sulla fascia media che ti batte 10 a 0. Ma cosa sto dicendo 10 a 0? 100 a 0. La batteria, devo dire, che si comporta bene e non scalda. Dopo il ripristino iniziale di 4 giga di dati, dopo non ha più scaldato e la batteria ha cominciato a comportarsi bene. Sono sempre arrivata a sera con un 20, 25, 30% con il mio utilizzo, arrivando a fare anche quelle 7, 8 ore di display attivo. Quindi dal punto di vista dell'autonomia, niente da dire. Ricezione, ballerina. E adesso a banco vi faccio vedere la parte multimediale, le foto e tutte le altre cose che ho provato in questi giorni. Sapete che a me non piace tergiversare troppo, non mi piace parlare di dati fino a se stessi. Vi rimando all'unboxing se volete la scheda tecnica completa. Intanto vi parlo di ricarica. La ricarica è molto veloce, devo dire la verità. Anche se mettete un caricatore non rapido, lui si carica abbastanza velocemente. In meno di un'oretta si carica completamente. Il caricatore comunque ha un'uscita a 2A che carica abbastanza velocemente, circa 40 minuti, 45 minuti. Nonostante sia una 4000 mAh. Le notifiche arrivano puntuali, niente da dire per quanto riguarda le notifiche. Il display è abbastanza luminoso, non troppo. L'interfaccia del software è quella Android Stock. È piacevole, devo dire. Non ci sono particolari problemi per quanto riguarda la fluidità. Però quando vado a interagire con le app, allora lì davvero casca l'asino. Nel senso che se devo andare ad aprire un'app è laggoso. Tanto già anche la digitazione è abbastanza lenta. Non prende sempre i clic sui tasti. Apriamo, richiediamo al sito desktop. In wifi prende abbastanza bene, qua dentro. Anche se a volte vedo che si impalla un po'. C'è un micro rallentamento, vabbè, stiamo parlando comunque di non un processore da top di gamma. È ovvio. Le notizie le apre abbastanza bene. Il display è molto buono, devo dire che è un ottimo IPS. E a parte il problema del vetro e l'oleofobicità che è rasenta allo zero, però la visibilità è molto buona. Devo dire che anche i bianchi sono davvero dei bianchi eccellenti. Vedete che ci mette un po' a caricare la pagina. Guardate, non è ancora finito di caricare. Non è un problema di rete, di ricezione, eccetera. Qua c'è qualche rallentamento a livello di software che impedisce di caricare le pagine in modo abbastanza veloce o comunque soddisfacente. Vedete, ci mette sempre quei cinque secondi di troppo. Anche nelle operazioni comuni, spesso mi fa aspettare, sta lì, carica, non carica, non si capisce. Insomma, non è reattivo come avrei voluto. Il menu anche per aprirsi, guardate, le animazioni va bene, ma ci mette molto ad aprirsi il menu. Non è una cosa veloce. Non mi ha ancora fatto un update, una patch, niente. I 6 giga di RAM sicuramente non si sentono come dovrebbero. Ma quello che mi ha deluso di più non è tanto l'usabilità che comunque è, diciamo, nella media. È proprio il comparto multimediale, che doveva essere il punto di forza, diciamo, il fiore all'occhiello di questo device. Dal punto di vista hardware è abbastanza completo. Abbiamo un SoC Helio P60 con una GPU Mali G72 MP3, però non tira, non rende come ci si aspetterebbe. La fotocamera spesso è bugata, mi si apre, appena vado a mettere la grandangolare, spesso mi si chiude. Quando metto l'intelligenza artificiale, sento dei micro scattini, mi dà solo lo zoom ottico, ma non mi dà più la grandangolare. Non si sa il perché. Questa cosa rimane a tutt'oggi un grande mistero. Poi vedete come tutta la gosa, la fotocamera, è lenta nell'aprirsi e nell'andare da un menu all'altro. Non c'è fluidità. E poi c'è questo micro... Sembra quasi che ci siano dei micro scatti che si attivano. Non so come mai. Dentro dei sensori. Come se scattasse una molla, non lo so. Le foto non mi hanno soddisfatto particolarmente. Cioè, guardate questa con condizioni di luce buone. E guardate com'è sgrana. È una delusione totale. E adesso apriamo le foto in galleria. Vi faccio vedere. Ho provato a farle un'altra, ma anche qui non ci siamo. Qui guardate com'è sgrana con buona luce. Qua un po' meno, perché c'è una luce diversa. Ma anche qui vedete i dettagli sono veramente scarsi. Qua con poca luce, in modalità notturna, è tutto un impastamento di colori assurdo. Anche qua si vede malissimo. Guardate. Cioè, questo doveva essere uno smartphone che avrebbe dovuto fare foto assurde. Un Redmi 7A, vi faccio un paragone veloce. Il Redmi 7A fa foto molto migliori di questo. E costa, con la promozione che abbiamo fatto uscire ieri, costa meno di 70€. La versione da 2GB e 32GB di storage interno. Qua, modalità non notturna è quasi meglio, anche se molto più buia. Qui la tazzina di caffè. Di giorno se la cava, se la cava, però niente di eccezionale. Appena io vado a zoomare, fa veramente fatica. Ci deve essere veramente tanta luce per avere una foto, diciamo, sufficiente. Però, anche la resa dei colori non mi è piaciuta particolarmente. E questi artefatti, nel voler andare a dettagliare le immagini, non mi convincono. Qua ho fatto un video selfie che avevo già fatto vedere, che non è male. Ciao amici, ciao ragazzi. E vi saluto anche da parte sua. Un salutone da Pasqui e dallo zio Bob. Ciao grandi. Quindi, anche qua, l'audio non è male, l'audio non è male. Qui ho modificato la foto con lo zio, però anche lui giustamente mi faceva notare come brucia dietro. Fotocamera frontale da 13 megapixel che avrebbe dovuto fare una foto decisamente migliore. Qua, il piatto di pasta che ho mangiato, qui l'ha fatta anche bene, devo dire. Questa è forse la foto migliore che è riuscita a scattare questo smartphone. Anche qui, guardate come brucia la parte sotto e anche l'effetto scontornamento non viene bene, assolutamente. Vi faccio vedere un video invece con la fotocamera posteriore, così in poi mi dite la vostra. Video in 1080p e 30fps con Kubo TX20 Pro. Camminata veloce, mi sono appena incontrato con lo zio, grandissimo. Abbiamo pranzati insieme, è stato veramente un bel momento e spero di averne tanti altri insieme, in collaborazione con lui. Adesso proviamo la messa a fuoco rapida. Cambio di direzione. Siamo a comportarsi abbastanza bene, nonostante tutto. Si può passare alla modalità zoom ottico 2x mentre faccio il video. Ora sono in modalità normale e adesso con lo zoom ottico 2x. Voi mi direte com'è l'audio e la stabilizzazione. Ciao ragazzi! Allora, l'audio del telefono è scarso. A parte che è mono, proprio impasta i suoni. Voi mi direte poi com'è l'audio del video su PC. Adesso metto su un nostro video per farvi vedere la parte multimediale, ma sono rimasto molto molto deluso. Questo è il massimo! Tutto molto impastato, tutto molto metallico. Sì, la parte multimediale si gode bene perché il display è un bel display e con cornici ridotte. Però dal punto di vista dell'audio è gracchiante, poco pulito, impasta. Insomma, a me non è piaciuto. Per quanto riguarda la ricezione in 4G, ha anche l'opzione volte. Abbiamo provato con Iliad e la ricezione è stata sempre buona, anche se in certi momenti si impallava nel cambio cella e questa reattività di cui parlavo prima mi ha dato un pochino di problemi. Il wifi qua in questa stanza di solito faticano un po' tutti e qua se la cava bene lui e riceve bene. Quindi wifi, buona ricezione. Il peso alla lunga si fa sentire. Questo è un mattone che non è neanche troppo ben bilanciato. Sembra che sia più pesante davanti rispetto a dietro. Insomma, non dà l'idea di essere un dispositivo molto comodo da utilizzare. Anche se non scivola, perché il grip è buono. Comunque, il fiore all'occhiello di questo dispositivo doveva essere il comparto fotografico e video. Capisco che per 146 euro non possa essere paragonabile a un Mi 9T Pro, a un OnePlus 7, OnePlus 7T e compagni. Però, nella fascia media e nella fascia bassa abbiamo dispositivi come Redmi Note 7, i nuovi Redmi Note 8, Mi 9 Lite che sto provando che è straordinario. Quindi bisogna dire le cose come stanno, voi lo sapete che noi le cose le proviamo. Punti di forza, autonomia sicuramente, buona ricezione, display IPS più che sufficiente, usabilità nel quotidiano abbastanza buona, anche se manca di reattività e il software è un pochino troppo, come già detto, laggoso. Però il comparto multimediale anche lì caschiamo proprio male e mi ha deluso. Qua abbiamo un LED di notifica monocromatico, sempre blu. Per quanto riguarda la parte telefonica è buono, anche se in capsula qui si sente un pochino troppo basso, anche tenendo l'audio al massimo, secondo me hanno lavorato male proprio sul comparto audio in generale, perché si sente ma la voce non è piena ed ha un volume abbastanza basso. Se vi trovate in condizioni di traffico, di confusione in mezzo alla gente, fate fatica a sentire l'interlocutore dall'altra parte. Loro comunque sentono molto bene noi. Guardate la quantità di ditate che trattiene, anche qua che l'ho usato per pochissimo. Ci vengono addirittura queste striature sul display orizzontali che non mi spiego. La qualità del vetro sicuramente lascia molto a desiderare. La fotocamera frontale è, comunque l'avete vista, sul livello di quella posteriore. Detto questo saluto tutti, saluto i gruppi Telegram, Malati di Smartphone, Ono 20 Viu 20, Cyanides & Friends, il gruppo dello Zio, Dovax Group, il gruppo anche operatori mobili e fissi. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale dello Zio e saluto anche Max di Max Recensioni e Paolo di Fonblog Italia. Ringrazio comunque Gearbest per avermi mandato l'oggetto, per avermi dato la possibilità di provarlo e di testarlo, ma per il momento davvero ancora siamo indietro, ha ne luce. E non perché costa poco, ma perché se vuoi inserirti in una fascia di prezzo di questo genere, devi comunque non far finta di essere ciò che non sei. Tu vuoi far finta di essere un camera phone? Anche se costi 150 euro, comunque le foto le devi fare in modo decente. Non spacciarti con la pubblicità e con il marketing e con tutto il resto, dicendo che con questo telefono diventi un professionista fotografo, perché non è assolutamente vero, o comunque per il momento non lo è. Lascio il beneficio del dubbio, attendo ulteriori aggiornamenti, ma in questo momento sconsiglio altamente l'acquisto. Detto questo vi saluto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Un salutone da Pasqui. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.